Martedì 5 marzo alle 9 e 30 del mattino presso la sala del consiglio di Terra Nuova Bracciolini un incontro fra sindaci, ASL, sindacati e cittadini cercherà di fare luce sulla situazione sanitaria del territorio con le opportunità che offre, i servizi e gli aspetti da migliorare in futuro. Un secondo incontro è poi fissato nei giorni successivi e parlerà nello specifico del presidio ospedaliero della Gruccia. L'obiettivo è dare la possibilità ai cittadini di interagire con i relatori, fare domande e avere chiarimenti. Avremo l'opportunità e l'occasione di confrontarci nel primo incontro, quello sulla sanità territoriale, con la dottoressa Patrizia Castellucci mentre il secondo sul presidio ospedaliero ovviamente con la dirigente che è la dottoressa Matarrese. Abbiamo deciso questo percorso perché ci sembrava opportuno illustrare tutti quelli che sono i servizi di cui i cittadini possono usufruire sia in termini di sanità territoriale sia in termini di presidio ospedaliero. Spesso e volentieri come sindaci raccogliamo indicazioni da parte dei cittadini ci sembrava giusto dare un'opportunità ai cittadini stessi di un confronto diretto con le persone che di fatto organizzano e seguono i diversi servizi e ne hanno la diretta responsabilità. I sindacati vigilano sui servizi erogati al cittadino e questo incontro ha lo scopo di far conoscere quali sono i diritti delle persone e la situazione della sanità in Valdarno. E' basata molto di questa riforma sulle case della salute e attraverso i medici di medicina generale nella sua applicazione completa che va dalla prevenzione alla continuità assistenziale a quello che sono le cure intermedie. Questa fascia di servizi sono quelle che poi dovrebbero in teoria, noi speriamo anche in pratica, dare grosse risposte ai cittadini. Per cui l'obiettivo sarà quello di far conoscere e conoscere tutti i piani che ci sono sul territorio e in ambito sanitario e da lì poi partiremo per confrontarmi e confrontarsi e soprattutto controllare che tutto vada a pieni giri e sia efficiente per il cittadino.